Musica Un saluto cari amici di Globus Television da Antonella Guglielmino. Ecco le notizie di Globus Magazine. Iniziamo subito con la prima. Attacco all'aeroporto di Istanbul, almeno 36 morti, l'ombra dell'ISIS. Tre kamikaze in azione, commando di 7 persone. E di 36 morti e di 147 feriti, il bilancio provvisore ufficiale dell'attacco di ieri sera all'aeroporto di Istanbul, dove almeno 3 attentatori hanno sparato e si sono poi fatti esplodere tra la folla. Secondo il premier turco, il DIRIM tutto porta all'ISIS. Lo scalo di Ataturk è stato parzialmente riaperto, molti in ritardi. Non risultano per adesso gli italiani tra i colpiti. La Farnesina prosegue le verifiche. Adrano, il caso Salsiccia, si dimette Agnese al Berio. Il caso a Adrano, due consiglieri comunali, insieme a altri componenti del Consiglio, durante una cena, più o meno goliardica, a base di Salsiccia, avevano preso in giro, con frasi offensive, chi non percepiva lo stipendio da ben 5 mesi e da poco avevano iniziato lo sciopero della fame. La cena e le varie scenette sono state riprese. Risultato? Il video è stato pubblicato in rete. Dopo le dimissioni del consigliere Enzo Maccarrone, ieri si è dimessa la consigliera Agnese al Berio. Siamo ai limiti della fanta politica. Il casellante replica al Teatro Margherita di Caltanissetta. In Sicilia, infatti, oggi, giorno 29, alle ore 20 e 30, debutterà al Teatro Margherita di Caltanissetta, unica data in Sicilia. L'attrice catanese Valeria Contadino è stata protagonista femminile ed è il casellante di Ambrea Camilleri, con la regia di Giuseppe Di Pasquale. Durante la 59esima edizione del Festival Internazionale dei Due Mondi, ha Spoleto, ottenendo grande riscondolo da parte del pubblico. Intensa l'interpretazione, i tre terzi a grande richiesta al caffè del Teatro Massimo. Un repertorio dinamico, frizzante, capace di coinvolgere il pubblico di ogni genere e di tutte l'età. I tre terzi tornano a grande richiesta giovedì 30 giugno al caffè Teatro Massimo di Palermo, promettendo un'altra serata piena di ritmo e di voglia di divertirsi in maniera intelligente. In scaletta, brani rivisti in chiave acustica dei Pink Floyd, di Neil Young e dei Beatles, ma anche tanti altri tratti dal ricco repertorio degli America e dei Coldplay. Lo storico batterista Dave Wackel in concerto a Bianca Villa. Sarà un evento unico, quello in programma domenica 3 luglio alle ore 21, a Villa delle Favare a Bianca Villa. Il famosissimo batterista tra i migliori al mondo, Dave Wackel, si esibirà in un imperdibile concerto che porterà in città musicisti appassionati, percussionisti di tutta Italia. L'evento è promosso dall'amministrazione comunale a costo zero, grazie all'idea del maestro Giovanni Caruso, docente dell'Istituto Musicale Vincenzo Bellini di Catania, che è riuscito a contattare Wackel per organizzare, proprio a Bianca Villa, tre giornate di formazione e di stage per giovani e musicisti che in centinaia hanno fatto già richiesta. Alessandro Preziosi, la voce narrante del libro Tibetano dei Morti. Lunedì 4 luglio alle ore 11 a Palazzo Vanasco, nella cornice dell'Aula Magna dell'Accademia delle Belle Arti di Catania, sarà presentato in anteprima nazionale uno spettacolo poetico musicale, Cantico dell'Anima, Net Gong Opera, ispirato al libro Tibetano dei Morti. Ideato e diretto da Alfio Sciacca, con la collaborazione artistica di Liliana Nigro, docente di storia del costume presso l'Entetneo, che si svolgerà giovedì 7 luglio, ore 20.30, al Chiostro di Ponente del Monastero dei Benedettini, un evento culturale promosso dall'Accademia in armonia di comproduzione con il Teatro Massimo Bellini, l'Accademia delle Belle Arti di Catania. Era il 1786, Alexander McDonnell, con oltre 500 Highlanders cattolici, lascia la Scozia per insediarsi nella contea di Glengarry in Ontario. Era il 1927, primo test del propulsore a inclinazione variabile di Wallace Tornable. Era il 1933, il pugile italiano Primo Carnera sconfigge lo statunitense Jack Sharkey e diviene campione mondiale dei pesi massimi. Era il 1934, la notte tra il 29 e il 30 giugno, a luogo la cosiddetta Notte dei Lunghi Coltelli, epurazione nazista dei vertici di Stammerbulten e degli oppositori di Hitler. Era il 1986, l'Argentina di Diego Maradona vince il campionato mondiale di calcio battendo la finale a Germania con 3 a 2. Era il 1995, lo Space Shuttle Atlantis si congiunge con la stazione spaziale russa Mir. Era il 2000, la notte tra il 28 e il 29 giugno, muore stroncato da un infarto il grande attore Vittorio Gasman. Era il 2007, l'iPhone, rivoluzionario telefono della Apple, viene lanciato sul mercato statunitense alle 18 ora locale in tutti gli Apple Store. Era il 2008, finale di Euro 2008 tra Spagna e Germania, vince la Spagna 1 a 0 con gol di Fernando Torres. Da Globus Magazine è tutto, a domani. Grazie a tutti.